In questo momento la Croce Rossa italiana che sta chiamando i cittadini un numero 065510 che potrebbe comparire sul nostro telefonino per chiedere se siamo disponibili al prelievo venoso ed effettuare così il test sierologico. L'adesione però è bassa. Appello anche ai tanti cittadini che stanno dicendo no al test. Noi l'abbiamo fatto, ad esempio siamo una categoria assolutamente più esposta, poi era giusto farlo. Però io credo che sia un senso anche di civiltà. Assolutamente. Mi meraviglia questa cosa. Non lo sapevo che ci si vuole sottrarre al test. Io lo farei, lo farei sempre perché è un modo sicuro per sapere che non siamo infetti e che quindi possiamo anche nei confronti dei nostri cari avere atteggiamenti un po' più liberi di quelli che non devo avere se so che sono contagiato. E quindi io addirittura l'avevo un po' data come misura cautelare estensiva. Mi riferisco al test sierologico di tipo speditivo con il pungidito. Altri paesi, non dico più civili o meno di noi, ma altri paesi lo stanno facendo estesamente perché se sulla positività apre un tema per cui poi va comunque fatto il tampone molecolare ma sulla negatività è sicuro e quindi almeno siamo tutti tranquilli. Se io invito a casa mia quattro amici che sono mesi che non vedo e io sono più tranquillo se fanno il test e verifico che non sono positivi perché almeno si può stare tranquilli a mangiarsi una bistecca a distanza sociale ma senza mascherina. Quindi non vedo perché si debba rifiutare di fare un controllo. Io non vorrei sembrare quei vecchi zii di casa che brontolano sempre, no? Però una cosa la devo dire. Io credo che molti di coloro che minimizzano il tema del coronavirus sbagliano perché gravi o non gravi io non lo so, però di conseguenza questa società ne ha già portate di tante. Se vogliamo veramente che non ne porti di più ci dobbiamo un pochino adeguare a queste che sono delle regole che non ho scritto io, che hanno scritto altri e che ci consentono di stare insieme, di produrre, di lavorare, di avere una vita quasi normale. Rinunciarci significa stare a rischio e il timore forte è che riparta tutta la rumba da qui a qualche mese.